Benvenuti nel vlog di settembre. Iniziamo con la preparazione della nostra pomarola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buone letture e splendide passeggiate. Grazie a tutti. 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 La nostra bimba ha adorato la sua nuova bicicletta. Ma diciamo che le piace anche molto stare in cucina. Grazie a tutti. Abbiamo terminato settembre con un po' di didattica a distanza, il primo giorno di scuola e il compleanno del nonno. Il mondo ha abbastanza belle montagne e il mondo ha abbastanza belle montagne e prati, cieli spettacolari e laghi sereni. presto, la nostra succe, il mondo ha poi, da Grazie a tutti. Grazie a tutti.